Allora non uccidetemi vi prego non uccidetemi per la cosa che sto per dirvi Non ho ancora fatto la skin Non ho ancora Fatto la skin Ok però 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 voglio fare un compromesso per questo video Non vedrete me con la skin Però magari all'inizio magari alla fine Facciamo alla fine Boh comunque durante il video inserirò una piccola Con questa vocina proprio piccola Ai mi fa un'orecchia Clip nella quale io andrò a crearmi la skin Potrei non farlo mi state dicendo Eh no ma io non ti credo È vero potrei non inserirla Non lo so Fatto sta che signori non ho ancora fatto la skin Mi prego vi scongiuro non uccidetemi Ma non pensiamo a me che non ho fatto la skin Pensiamo a vincere queste partite No pensiamo a me che non ho fatto la skin Vabbè iniziamo Dannazione Stupido master Bonjour Allora siamo tornati nel murder mystery Il mistero dell'assassinio Dell'omicidio Vedete qua che carino c'è un assassino C'è un detective E ci sono io morto Perché sì quello sono io Quindi Dato che non ho ancora la skin Mi sento tanto scrauso Tanto che Facciamo normale Ma sì dai Facciamo questa qua normale Voglio farlo ovviamente normale Però in double up Ovvero tutto raddoppiato Io mi do una sistematina Le cuffie sono sempre rotte Stupido amazon E siamo già in 24 Ok c'è tantissima gente Che gioca al murder mystery Mi dispiace Non avere ancora fatto la skin Ma sapete che non Mi ci devo mettere Per forza Mi ci devo mettere a farla Se siete fortunati Mi vedrete Innocente Ok Dicevo appunto che magari Dopo mi metto a fare la skin Ma sinceramente Non ci avrei Tutta questa Sicurezza Anche perché Non ho molto tempo Devo registrare questo video Poi devo editarne un altro E poi devo andare a fare una cosita Aspetta ma non posso andare in acqua Eh infatti Stupido stupido Sali 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 Infatti mi sto tutta in acqua Ah che bella l'acquetta Però stavo morendo Tipo E quindi Oh no Oh no Salve buon uomo Ce la facciamo a far parkour No Ha avuto la mia stessa idea E tu sei salito Io no Stupido boss Questo mi sa tanto No non lui Questo Dov'è 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 Donde stas Donde stas Piccolo Mamma mia Si è lui il killer Sgamato Sgamato in pieno Perfetto Eh no Eh Stai fermo Ok Ciao Steve Quanto legno c'è Due di gold Perfetto Quindi appena sale Lui E so Chi Gli tendo Una di qua No Non sono io Non sono io Non sono io Questo qua è un pazzo Allora lui è il detective Perfetto Ed è un pazzo E noi dobbiamo rompere il ponte Aia che male di schiera Non so perché mi fa male Che succede Nel dubbio GG Play again Play again E sto giro speriamo di fare il detective No perché il detective Di un secondo faccia Ha lanciato una freccia Qui in mezzo agli occhi Che oh mio dio Me la ricorderò per un mese Però almeno abbiamo vinto Totalmente a caso Basta fare gli innocenti Voglio fare l'assassino Io eh Ma io voglio fare l'assassino Eh Eh Ehi pss Ehi tu Tunnel super segreto What? Wow 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 What? Non lo sapevo Figo Cos'è sto lag Figo Allora 20 innocenti in vita Ho chiaramente visto la cosa Mi viene da dire guardia Ma non è una guardia Il detective Che era qua con l'arco Ma va bene Ed è stato droppato l'arco Se siamo fortuna Oh Oh questo è cretino Perché tutti pensano Che io sia l'assassino Questo è cretino Perché tutti pensano Che io sia l'assassino Io Dai Perché tutti mi voglio morto E perché mi fa male la spalla Alla 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 Dai Tutti Oh ma Due partite Due volte che mi voglio morto Cos'è C'ho la faccia da assassino Beh Molto probabilmente si Ora Questa mappa è molto desertosa Secondo voi Hanno messo dei muri invisibili Per fermarci O siamo ancora innocenti Punto di domanda Domanda di punto Punto di Eeeh Dai Ma non possiamo fare sempre gli innocenti Cioè uno vuole semplicemente Salve signorina Vuole sem Ma c'ha la barba Vabbè lasciamo perdere Vuole semplicemente registrare un video Facendo il buon e vecchio assassino Invece no E invece no Dobbiamo fare sempre gli innocenti Cosa mi distruggi Cosa di terracotta Sono un patrimonio nazionale Per chi non avesse mai visto L'esercito di terracotta L'ho invitato ad andarlo a vedere Perché è molto interessante E vedete che anche in un video Delle murder mystery Vi posso fare un momento didattico Eh quanto sono bravo Eeeh Ma cavolatine a parte Eeeh Sopravviviamo? Non so Perché hanno droppato un arco Ho sentito Lui c'ha una spada C'ha la spada C'ha la spada Oh Beh che dire Se siamo Ancora Innocenti Voglio quittarla E farmi una di quelli zombie Infection Se siamo Giocati Giocati O assassini Rimaniamo Quindi sta tutto al gioco Fra dieci secondi Fra dieci secondi Lo scopriremo Fra dieci secondi Lo scopriremo Giuro che non sono stato Scriverlo io Giuro che non l'ho scritto io Ma comunque Un secondo iniziamo Disconnetti Eh dai Volevo fare l'assassino C'è oggi proprio C'ho la voglia di fare l'assassino Ma voi non avete sentito niente E cos'è questo Cos'è assassin Murder mister Play murder mister Assassin Non so cosa sia Non ne ho la minima idea Di cosa sia Oddio perché abbiamo Questa skin particolare Cosa Cosa Perché c'ho questa skin particolare Vi giuro Non ho fatto niente Ve lo giuro Ve lo giuro Ve lo giuro Non ho fatto niente Perché c'ho sta skin Ma aspetta Sono io No Cosa sta succedendo Il your target Oddio signori Cosa sta succedendo Perché quando scrivo Mi dice Alex Guardate Se andiamo su text E scrivo Eh vabbè Sono morto Vabbè Se scrivo ok No Eh Alex Vedete Non lo so Siamo diventati una donna Vabbè Ce lo facciamo andare bene Vedete Io all'inizio video Ho detto che non avevamo la skin E invece il gioco Ce l'ho provveduto a darcela Bravo gioco Auto 5 Ora Chi è il mio target Name Ben Ok Bello questo Mi piace No bello dai Così almeno dobbiamo uccidere Per forza qualcuno La mappa fa schifo Perché è stra buia Non ci vedo niente Sì è il buon Ben No ma mi dispiace Un po' uccido L'ho visto il lobby Eccolo lì Eccolo lì In realtà non mi dispiace Ucciderlo Sono una scusa Ciao Ben Ma dai Ben Ma Ben Ben due volte mi ha ucciso Ben due volte Oh mio Dio Play again No ora la vinciamo Però voglio cambiare mappa Vabbè Spero me la cambi Perché questa qui mi fa schifo Proprio strascura Non mi piace per niente Sia già YouTube comprime i video Vabbè Lasciamo perdere Lo schifo di quanto li comprime Ovvero li rende stra più scuri Sia Oh tu mi hai ucciso Oh Ben Cosa ti volti le spalle Che mi hai appena ucciso Però questo vuol dire Che anche lui è morto Vediamo chi è il nostro target Ok non ce l'ha ancora dato Vediamo tra 4 secondi Chi è il nostro target 2 1 Ed è una No dobbiamo uccidere una donna Ok Se esce il nome magari Se esce E lì Dobbiamo uccidere Che spavento Dobbiamo uccidere E lì Che mi sa la Lei No 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 non è lei Non è neanche lei Voi non avete visto niente Chiesto giro Same rules Vabbè No non sono No non sono io Ok Allora è una tipa Con i capelli Ok È una Ma non riesco a respirare Cioè Non riesco A respirare Dai Faccio l'ultima Basta Faccio l'ultima Ora Non so perché Ma ci danno sempre Le Come si chiama Le mappe scure Sempre le mappe scure Sempre le mappe scure Sempre le mappe scure Oh bello Potrei rifarlo nella mia Minecraft vanilla E la Bello Vabbè No ora basta Mi impegno un botto Basta Basta Fine Un secondo E diventiamo dei master assassini Stracattivi Concentrati I'm your mom Ok Danny Ok Ok Stracarichi Oh questa è nostra Oh questa è nostra Questa è nostra La minciamo Fammi vedere chi è Tipo Tipo giallo Ok Il giallino Dove sei giallino Ti faccio del male giallino Ti faccio del male Crede di aver appena scoperto una cosa Ma vabbè Me la terrò per me Dicevo Non ho capito se Anche il giallino Sono io il suo target È lui È lui È lui È lui È lui Giallino Muori Dai Ma stiamo Scherziamo Quindi signori È stato un fallimento Totale La skin Non ce l'ho Però almeno ce l'hanno regalata Vedete che bella Regalata Ce l'hanno prestata Per quella modalità Mi avete anche scritto Come e dove farla Quindi bravissimi Un bacione a tutti Io vi ringrazio per la visione Mi avete appuntamento Domani Domani Alla solita ora Vero 2.45 Con un nuovo video Ciao 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 Grazie a tutti.